Momento delicato in casa triestina che oltre al mercato sta ragionando su una possibile trattativa che fino a poche ore fa era data anche per vicina a concludersi riguardo alla cessione di una robusta quota del club. I rumors sono diventati un affare che è effettivamente arrivato sul tavolo del presidente dell'Unione Giacomini, proposta giudicata interessante e degna di essere valutata. I siti che si occupano di notizie calcistiche scrivono di un gruppo imprenditoriale che farebbe capo a Riccardo Calleri. Il closing per questa trattativa nelle ultime ore avrebbe subito una frenata e la fumata bianca è stata nella migliore dell'ipotesi rinviata a fine gennaio. Nel frattempo il direttore generale Romairone ha avuto il via libera a chiudere affari già definiti nei giorni scorsi. Il primo è stato Alessandro Malomo, difensore che ritorna a Trieste dopo due anni. Il secondo è Umberto Germano, centrocampista prelevato dal Padova, cui ufficialità è stata sancita in mattinata. Altre voci di mercato vedono vicino l'arrivo dell'attaccante Gabriele Bernardotto dal Crotone. Tornando alle questioni societarie, in queste ore si fanno largo due ipotesi. In caso di cessione di parte del club, una prima strada porterebbe al mantenimento della presidenza di Giacomini, del ruolo di direttore generale di Romairone, con a fianco un volto nuovo per ricoprire la carica di direttore sportivo, indicato proprio dai nuovi potenziali soci. Una seconda istanza invece vedrebbe l'arrivo dei nuovi soci con una quota di maggioranza che permetterebbe loro di poter rimescolare i nomi dei dirigenti. L'attuale proprietà, a ogni modo, va detto, ha rispettato sinora tutti gli impegni presi sotto il profilo economico e organizzativo. Non ci sono segnali che facciano pensare, almeno ad oggi, a un disimpegno totale dell'attuale board, sentore che in questo momento suona come molto importante in un momento critico per il club.